Sta per concludersi quest'anno 2018 ed inevitabilmente è anche momento di bilanci anche per i vigili del fuoco di Salerno. Dopo i terribili eventi dell'estate 2017, che è stato un anno caratterizzato purtroppo da numerosi incendi che hanno danneggiato fortemente la vegetazione, soprattutto nel salernitano, era alta l'attenzione anche per questo 2018. L'ingegnere Adriano Deacutis, al comando da oltre un anno dei vigili del fuoco della provincia di Salerno, parla però di un anno positivo rispetto al precedente, con un numero decisamente ridotto di interventi per incendi boschivi nella vasta provincia salernitana. La vastità dell'area da coprire, infatti, è stata la principale preoccupazione per il comandante, che però ha potuto contare, soprattutto per la parte a sud di Salerno, di un ulteriore supporto grazie all'attuazione del presidio estivo di Agropoli, in aiuto ai caschi rossi proprio con il comandante.